vi mostro come ricreare il look di material luxury collezione che celebra lo stile nordico contemporaneo fondendo elementi di design con quelli di makeup utilizzo la colorize nel colore 326 per creare la struttura del makeup sottolineo la palpebra mobile superiore inferiore e poi vado a creare un ombreggiatura tra palpebra mobile e palpebra fissa mi avalgo dei pennelli per creare una sfumatura morbida schiarisco il centro della palpebra mobile con pupa cover cream concealer nella tonalità 002 sul centro della palpebra mobile applico l'ombretto 3d metal nel colore coppery pink la texture compatta dal tocco inaspettatamente cremoso si fonde sulla palpebra per un colore metallico assoluto e a lunga tenuta intensifico l'ombreggiatura fra palpebra mobile palpebra fissa e lungo la rima ciliare inferiore con il colore vibrant violet stempero il contorno del makeup occhi e crea un punto luce vicino al condotto lacrimale con il colore rosy silver crea una linea per intensificare lo sguardo utilizzando la matita automatica made to last nel colore black è perfetta per delineare lo sguardo ed è a lunga tenuta e waterproof dona alle ciglia un volume smisurato passaggio dopo passaggio col mascara bump sulle gote applico merpod blush un maxi blush cotto che unisce un delicato color rosa con un illuminante sulle labbra applico duo lips twist up da un lato matita labbra con un rilascio colore estremo aderisce estantaneamente e definisce perfettamente le labbra dall'altro lato un rossetto luminoso confortevole dal finish radioso ed estremamente sofisticato applico solo sul centro delle labbra metal lip fluid gloss labbra effetto metallo puro nel colore eteral rose eccollo Grazie a tutti.